feste sono terminate e noi siamo qui a lavorare e a cominciare anche con nuove collaborazioni ecco qui una nuova specialità di crema perché in commercio ne troviamo tante ma questa è veramente particolare è una crema che si presenta già con una confezione veramente fantastica bellissima e molto carina direi anche da vedere e come vedete si chiude da sola cioè proprio è fantastica è una crema che si trova a tre gusti bianca nocciola e fodente noi abbiamo avuto l'onore grazie a questa azienda di riceverla in omaggio in nocciola bianca ovviamente è fantastica perché quando voi la gusterete la inserite in bocca sentirete un leggero frizzante perché è una cioccolata con effetto frizzante la utilizzeremo a fare tante ricette insieme ai nostri elettrodomestici che come sapete ne utilizziamo vari vi faccio vedere il suo interno si presenta molto densa come la nutella come le varie creme che stanno anche in commercio e come potete vedere è di una densità eccezionale al gusto al tatto con il con la nostra bocca ovviamente sentirete un leggero frizzare è una crema italiana è un'azienda cioè scusate è un'azienda italiana che ha più di 80 punti vendita ed è ancora in espansione troverete più di 80 punti vendita in italia come stavo dicendo avranno hanno prodotti sia dolci che salati li trovate su instagram con il nome di odd store real oppure sul loro sito www.oddstore.it però sotto in descrizione vi lascio scritto tutto ci vediamo con le ricettine con questo eccezionale prodotto